Buongiorno, buona domenica a tutti quanti voi. Allora vi vorrei parlare di una questione che riguarda la macchina del fango. Dovete sapere che questo termine, la macchina del fango, fu coniato per attaccare il quotidiano per il quale io scrivevo il giornale e continuo a scrivere il giornale, di cui io ero e sono vice direttore. Fu attaccata la macchina del fango, cioè il giornale, e si creò intorno al giornale, appunto da parte di tutti gli altri giornalisti, da parte dei politici, da parte delle istituzioni, del Presidente della Repubblica, del Presidente della Confindustria, si creò questo termine, la macchina del fango, perché il giornale stava indagando sulla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini. Sono passati anni e la macchina del fango si è trasferita evidentemente in televisione perché sto vedendo tutte le televisioni che ricordano come Fini in realtà abbia venduto una proprietà che aveva ereditato da una vecchia militante a quattro soldi e per cui fu indagato non solo Fini ma il fratello di sua moglie e tutta la vicenda della casa di Monte Carlo che qua non mi va di spiegare. In virtù di quella macchina del fango, una mia telefonata innocente e cazzara con il portavoce della Confindustria, Arpisella, un ricattatore, come si è visto da altre telefonate nei confronti dei giornalisti, ricattatore da un punto di vista mediatico, queste mie telefonate con Arpisella rischiarono di far andare in galera me, il direttore Sallusti per una cosa che poi i magistrati dopo anni hanno stabilito completamente priva di ogni senso e l'archiviarono. Lo sputtanamento dei miei confronti c'è stato, le telefonate private pubblicate alla faccia della privacy eccetera. La macchina del fango è il giornale, nonostante il giornale le sue inchieste le fa con toni, con titoli anche che possono non piacere, quindi non si compra il giornale a chi non piacciono quei titoli, però la cosa sostanziale è che poi abbiamo sempre avuto ragione sulle inchieste che abbiamo fatto, così come ha sempre avuto torto la magistratura nei nostri confronti del giornale quando è indagato pensando che ci fosse chissà quale costruzione, perché siamo stati tutti assolti e archiviati, assolti e anche il PM chiese di assolverci. Quando però la macchina del fango non è il giornale e quando i comportamenti di altri giornali sono simili a quelli del giornale, nessuno urla la macchina del fango, è avvenuto sulla stampa ieri. Ieri la stampa ha fatto il seguente titolo, inchiesta sulla vendita Milan, è bufera, è bufera sulla vendita Milan, un bufera che hanno visto soltanto a Torino, il giornale della famiglia De Benedetti, perché la stampa come ricorda oggi Salusti non è più insieme al secolo XIX della famiglia Perrone e della famiglia El Can, quindi Agnelli, ma della famiglia De Benedetti, cioè del Carlo De Benedetti, presidente onorario ancora della società. L'uomo che dava i consigli al suo broker su che cosa comprare. La procura di Milano scrive, ieri la stampa di Milano apre un'inchiesta, va bene. Cosa è successo? Il giorno dopo il procuratore di Milano, il capo di Milano che si chiama Francesco Greco, non si chiama Berlusconino, non si chiama Porro, non si chiama Salusti, Francesco Greco, chiaro? Francesco Greco non è esattamente un iscritto a Forza Italia, la procura di Milano mi sembra che sia piuttosto attenta e seria come si vede in questi casi. Cosa dice? Non c'è nessuna inchiesta. La procura di Milano dice che non esiste alcuna inchiesta, non c'è il fascicolo 42 che guarda inchieste nei confronti di noti, non c'è il 44 che riguarda ignoti. In più dice che non c'è stata nessuna richiesta di informazioni a Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, come scritto invece nel pezzo della stampa ieri ed oggi. La stampa invece di dire scusateci, siamo non la macchina al fianco, ma ogni tanto ci commettiamo degli errori, che cosa dicono? E' tutto vero, ci hanno detto due fonti e continuano per la loro strada. Probabilmente, e gli altri giornali ovviamente di questa cosa ne danno conto tutti quanti, Repubblica, in realtà non è importante, come nel mio caso che l'inchiesta poi ci sia veramente, che si arrivi a una condanna, che ci sia, ma la macchina del fango vera, quella di De Benedetti, basta che insulta, insulta, crea questo clima. Nel bar tutti dicono, cavolo, 740 milioni per il Milan. Berlusconi se l'hai ricomprato da solo. E' una di quelle chiacchiere da bar. Fake news, come i grandi giornali che vanno lì a tutti i convegni, a Dogliani, il convegno di Dogliani sulle fake news. Poi la stampa in prima pagina dice che c'è un'inchiesta, il giorno dopo il procuratore dice che non c'è e la stampa sapete che cosa sarà? Se ne fotte! Continua ad andare avanti sull'inchiesta. Lo capisco. Vedremo se c'è questa inchiesta, se verrà condannato Berlusconi. Molto simpatica l'idea che in campagna elettorale la stampa esca. Io non voglio minimamente dire, come dice Sallusti, tic tac o feltri oggi, arriva la campagna elettorale e ci si avvicina. Stupendo ieri il pezzo di Calabresi attribuibile a lui in cui dice che non dipendiamo da Carlo De Benedetti. No, per carità, perché ormai i loro proprietari non contano nulla, come peraltro anche sul giornale. Che pensate? Che Berlusconi non conti? Certo che conta Berlusconi sul giornale. Che pensate? Che Caltagirone non conti sul Messaggero e il Gazzettino? Certo che conta. Pensate che Panerai non conta su MF Italia Oggi? Certo che conta. Non ci prendiamo per i fondelli. Pensate che Cairo non conti col Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, un giorno sì, un giorno no, racconta le magnifiche sorti della Sette e di tutti i programmi della Sette che sono... Ragazzi, tutti gli editori contano. Quello che non conta è qua su Facebook la libertà che abbiamo di poter dire esattamente quello che ci pare per il semplice motivo, che sa su Facebook il mio editore. Siete voi quelli che mettete questo punto e che condividete questo video. Va bene? Questa è la differenza. E spero per quello che non ci sia censura su Facebook, che non ci siano organi di controllo sulle fake news di Facebook, perché è un modo per i vecchi editori di controllare quello che io dico. E io voglio avere il coraggio di dire in questa trasmissione televisiva, cioè su Facebook, l'unica che posso fare è che la macchina del fango non è il giornale, ma è un giornale blasonato come la stampa che può fare quello che le pare, tanto che cosa gliene fotta a lei. Tra l'altro, la cosa che mi stupisce, questi giornalisti sono così meticolosi che durante il servizio che fanno nell'indagine nei confronti del Milan di Berlusconi, vedremo cosa succederà nei prossimi anni, dicono l'ex cavaliere, perché in effetti i Cavalieri del Lavoro, favolosa organizzazione di cui mi vanto di non farne parte mai per i prossimi 500 anni, ha questa caratteristica, che ha leccato il fondelli e il culo a Berlusconi, a Tanzi, per 50 anni, per 30 anni, poi quando loro hanno avuto dei guai giudiziari, ma ce l'aveva forse 30 anni fa questa nomea, 20 anni fa, Tanzi, Berlusconi, quelli condannati, gli tolgono il cavalierato, no? Quando poi se ne accorgono gli tolgono il cavalierato. Vabbè, ma lasciamo perdere. Quindi che cosa dice la stampa? L'ex cavaliere. Quindi la stampa è così precisa nel ricordare che il cavaliere non è cavaliere, ma è ex cavaliere, ma da non essere precisa il giorno dopo di ricordare che Francesco Greco ha detto che Ghedini non è andato in procura a presentare quei documenti e soprattutto che non c'è un'izzagine. Ci sarà? Magari fra una settimana, due mesi, dieci giorni, ma oggi non c'è! Quindi quella che loro hanno dato è una fake news, una fake news, una balla. Un tempo si diceva la macchina del fango. Ma la cosa che più mi diverte oggi è che con questo criterio, anche le mie tesi, diciamo, pro-mercato, mi fanno pensare, e contro la burocrazia, un altro titolo. Per un carciofo chiudono il mercato della stazione Termini. Alla stazione Termini ci sono due cose buone. La Louis Lab, cioè sostanzialmente i laboratori, degli aggregatori, di giovani che si occupano di internet, ve l'ho fatta male. E l'altra cosa è questo famoloso mercato di viaggiolitti dove nel degrado più totale c'è un barlume di civiltà, di pulizia, di stelle Michelin, di possibilità di acquistare. Bene, l'Asl avrebbe chiuso per due giorni, tre giorni questo mercato perché avrebbe trovato, le ha chiusi, non le avrebbe, perché ha trovato un carciofo che non funzionava, che non era salubre. E nei pezzi di oggi dicono, eh ma come, con tutto il casino che c'è ve la prendete con questo che è uno dei pochi posti dignitosi della stazione Termini a Roma. Da un punto di vista condivido completamente questa tesi, no? Completamente questa tesi. Ma il punto è, mi posso fidare di un giornale che titola per un carciofo hanno chiuso un mercato? Vi posso dire la verità? Non mi fido. È esattamente il titolo che io avrei trovato su Twitter, è esattamente le scie chimiche che trovo sul Facebook, è esattamente la foto di Instagram della subrette con 50.000 view e che poi scopro che in realtà sta in un paradiso terrestre pagato e pagata proprio per fare quella foto. Non mi fido, non mi fido di questo titolo, vorrei saperne un po' di più. Non posso credere che l'Aslab ha chiuso quel mercato per un carciofo. Può anche darsi, ma siccome è grande questo mercato ed è potente e non è un artigiano o un commerciante sfigato, secondo me hanno trovato altre irregolarità. Voglio fare quello che oggi non si fida delle notizie ufficiali, perché dopo aver visto che la stampa si inventa sta minchiata e tra l'altro la stampa porta a tesi della sua inchiesta, e beh, Repubblica pure oggi, e anche il New York Times aveva avuto delle discussioni sulla vendita del Milan. Allora, si ha detto il New York Times, quello che si è inventato la questione Regeni, quello che si è inventato delle nostre connivenze con la Libia, quello che si è inventato che le bombe sarde siano il problema dello Yemen, quando noi abbiamo venduto 400 milioni di euro di bombe all'Arabia Saudita, mentre gli Stati Uniti del New York Times hanno venduto 500 miliardi di euro di bombe aerei, e le bombe come arrivano in Yemen se non con gli aerei? Questo è il New York Times, però siccome lo dice il New York Times ci fa comodo, l'anticavalierismo quando arriva al 40% fa comodo a tutti. Ultima notizia della giornata, Cottarelli sulla Fornero, pezzo che vale la pena di leggere, Cottarelli, ex uomo della Spending Review, destra, sinistra, tutti contro questa Fornero, tranne mi sembra il PD perché l'ha votata nel 2011, tra l'altro l'ha votata anche Berlusconi, la Fornero, e dice una cosa sacrosanta, Cottarelli leggetevela, fa i numeri della Fornero e dice per quali motivi costerebbe tantissimo la Fornero, io mi rivolgo ai più giovani, ai ventenni, ai 22enne, quelli che votano Movimento 5 Stelle o che sono disgustati dalla politica, ragazzi se aboliscono la Fornero sono cavoli vostri, non sono cavoli di altri e ai sessantenni che oggi sono lì ad aspettare la pensione è evidente che saranno i penalizzati da un eventuale mantenimento della Fornero che lega l'aspettativa di vita all'andare in pensione, ma questa manovra l'aveva già fatta il centrodestra, quindi oggi non possono fare i fenomeni. Il primo a legare l'aspettativa di vita alla pensione sapete chi è stato? Giulio Tremonti, non la Fornero, la Fornero ha reso le cose più complicate, questo a beneficio di Salvini e di Meloni e di Berlusconi che della Fornero spero non se ne vogliano sbarazzare completamente. Detto questo per oggi è tutto, io vi do appuntamento, Grasso e Boldrini straordinari entrano in partito e già litigano su alleanza o no col Movimento 5 Stelle, ci sarà da ridere, condividete se vi piace questa zuppa, vi do appuntamento domani, ritorno con Matrix 105 in radio e poi Matrix martedì in grande spolvero su Canale 5. Grazie a Francoise, Rita sempre vero, Emilia Clementi che ride e piange e Silvia che dice delusione Molinari. Pierpaolo 7, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti voi, un saluto, a domani, ciao!